Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In a 15 un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Bercetoli e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 287 e 300 e 297 tra l'incrocio con la 12 e il Rosignano Solvè in direzione nord. Contestualmente è chiuso lo svincolo all'incrocio con la 12 sempre in direzione nord. Sempre in direzione nord scambio di carreggiata per lavori tra Castiglioncello e Quercianella. Per la viabilità cittadina a Firenze da oggi modifica i percorsi di varie linee di ATAF. Info sui nostri canali social. Infine per gli aerei oggi sciopero di 24 ore che coinvolge gli aeroporti di Firenze e Pisa. Info su ritardi di rottamenti e cancellazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!